Uuuuuh Un momento di Tanika, un momento serio, a parte questa sigla Perché oggi Tanika tocca un argomento molto molto delicato Il traffico degli organi umani Purtroppo una piaga, una schiavitù Che ancora oggi colpisce tanti esseri umani Inermi, fragili, vittime di questo assurdo traffico E Tanika canterà per noi Apriamo il collegamento con il barbone Uuuuh 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 Oggi anche un cuore si comperà Se un po' di soldi ne hai Prendi qualcuno che è povero Nessuno lo piangerà Coi soldi tutto è possibile Morte per te vita a mea E le coscienze si placano Coi moralismi del poi Traffico di organi umani Traffico di organi umani Traffico di organi umani Bisogna essere besti per uccidere bambini sani Uuuuh 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 Rubano bambini poveri Per darne un pezzo anche a te Prendono uno qualunque con i dirne E ha uguale a te Per una madre che ride E che il suo figlio riavra C'ha un'altra madre che piange E vittima di crudeltà Traffico di organi umani 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 Bisogna essere besti per uccidere bambini sani Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh 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 Il vil denaro compra, compra un corpo spezzerà Il vil denaro compra, compra un corpo spezzerà Traffico di organi umani, traffico di organi umani, traffico di organi umani Bisogna essere bestie per uccidere bambini sani Traffico di organi umani, traffico di organi umani, traffico di organi umani Bisogna essere bestie per uccidere bambini sani Tanica, in diretta dal Barbone Siate più umani Emozioni La musica su Radio Fra le Note È dedicata ad Alessia Arriva!